ero per natura portata all'amore per i piaceri e il divertimento non riuscivo più a gustarne alcuno ancorché cercassi di fare il possibile per procurarne ma la figura dolorosa che allora mi appariva ossia quella del mio salvatore appena flagellato mi impediva di goderne perché mi rivolgeva a questo riprovero che mi trafiggeva il cuore vorresti godere di questo piacere? e io che non ho mai goduto di alcun piacere e mi sono dato a ogni sorta di amarezza per tuo amore e per conquistare il tuo cuore e nonostante ciò tu vorresti ancora contendermelo quindi siamo al conflitto, troppo chiaro tutto questo mi impressionava moltissimo ma in buona fede devo confessare che non capivo nulla di tutto ciò avevo uno spirito rozzo e poco spirituale e facevo del bene solo perché lui mi ci costringeva con tale forza che non riuscivo a resistere vorrei anche far vedere la grandezza della sua misericordia perché pareva che avesse deciso di perseguitarmi e di contrapporre di continuo la sua bontà alla mia malizia il suo amore alle mie ingratitudini le mie ingratitudini sono state per tutta la mia vita causa del più acuto dolore non ero capace di riconoscere il mio sovrano liberatore che ha cominciato a prendersi così amorevolmente cura di me fin dalla culla e ha sempre continuato a farlo forse da quest'ultima frase dobbiamo partire per capire e rileggere non ero capace di riconoscere questo è credo penso che sia comune proprio comune veramente a tutti gli uomini per l'intervento di Dio non è da noi solitamente riconosciuto cioè non lo riconosciamo come si riconosce una fotografia non leggiamo non capiamo che valore ha quello che ci succede anche perché poterà distrattare in questa famose dal fatto che si era puntata nel mondo no no è sempre così come vede è da quando sono nata fin dalla culla il fatto di non capire anche di non seguire la volontà perché in una fase precedente quando era più piccola prima di che le cominciassero a dire che devi sposare e lei come entrava era un po' più concentrata sentiva la voce del Signore in una maniera diversa la sua volontà in una maniera diversa faceva quindi era una sì questo è vero penso che in genere però vale vale che non era capace solitamente e non si rendeva conto una cosa è che quando prima anche c'erano queste stimole del Signore lei in qualche modo li coglieva anche fortemente un'altra cosa è che lei avesse compreso e da piccola non l'aveva capito che c'era invece tutto questo disegno tutto questo piano e c'era questa prendersi cura amorevolmente di me sempre questa è una cosa della maturità non aveva una vita spirituale no l'ha detto lei c'era nessuno era un villaggio sprenduto c'era nessuno e diciamo quindi non era non era capace in realtà non era capace quindi di leggere ma in parte in parte è così perché deve maturare questa cosa diciamo in parte è così certo se uno pensa ad alcuni santi giovani ripeto Teresa del Gesù Bambino è la più chiara lì invece è chiaro fa impressione che uno dei pochi una delle poche a noi di quelli che ci hanno lasciato scritto che poi lo sappiamo gli altri non sappiamo niente ma se vi ricordate Teresa del Gesù Bambino insomma quando già ha 12 anni 13 anni ha chiaro il quadro tutto e questo fa impressione che ha chiaro tutto l'insieme una maturazione accade in un senso diverso non nel senso che non ha colto che tutto è e invece qui c'è un percorso questo è come tanti altri santi tantissimi altri santi gli altri santi con gli altri santi sì ecco l'adolescenza un po' più ribelle e poi con una maturità in cui si decide si fa sul monaco e vive una vita però di santità dentro il monastero quindi dicevo ecco non avevo perché avevo uno spirito rozzo e poco spirituale cioè poco anche educato abbiamo detto non aveva non aveva avuto l'opportunità di educarsi e di essere educata essendo morto tra padre al bambino lei ormai era in questo modo così a bambino ed è vero quello che le dice la misericordia per farle vedere la grandezza e la misericordia di Dio il fatto che il Signore la importunasse nel cuore e che diciamo la dice qua mi perseguitava cioè il pensiero di Dio e del crucifisso eccetera di questo amore di Dio eccetera lo perseguitava cioè significa che era sempre presente in lei e lei lo percepiva con dolore perché non lo seguiva pienamente ecco perché le mie ingratitudini sono state per tutta la mia vita a causa del più acuto dolore parliamo del dolore dell'amore e dell'amore tradito giusto ecco ed è il dolore che lei sentiva e cioè lo smarrimento il disorientamento sono proprio perché lei non capisce non segue non vuole seguire ed è ingrata e questo spiega quell'altra cosa che sempre Giovanni della Croce dice e lo ripetiamo a volte non sempre lo capiamo che non è che tutte le sofferenze sono meritorie tutte le sofferenze che abbiamo non sono meritorie Giovanni fa nel prologo della Croce fa quella ogni tanto ve lo ripeto fa questa quando fa l'esempio della madre con il bambino che non vuole camminare in braccio alla madre ma vuole grida perché vuole camminare lui allora dice dice la cosa fa più fatica e fa meno strada perché se invece si lasciasse prendere i braccio farebbe meno fatica e avanzerebbe di più e invece e quindi non tutte le sofferenze fatica in questo caso ma tutte le sofferenze e non si parla di quelle fisiche naturalmente sono meritorie alcune sono solo frutto della nostra resistenza a Dio e quindi non mi hanno nessun merito saremmo più gioiosi secondo quella che si diceva stamattina se facessimo meno resistenza questo va contro quell'idea che ah qualunque cosa poi alla fine ci fa accumulare menti non è esattamente così qualunque cosa vissuta e accettata in un'ottica perché porta ad una pace gioia pace cioè serenità di cuore pur nelle grandi avversità le grandi avversità fisiche o morali sono un fatto che si incontra appunto e lei appunto ne incontra molto ma la resistenza è un'altra cosa e lei qui lo distingue una cosa è le cose che patisce a casa di queste famiglie queste cose ci portano partiti le indivisive un'altra cosa invece che lei a un certo punto ha voluto tralasciare ha fatto resistenza all'amore si è messa lei in un'altra strada sono due cose diverse e questo le ha portato più acuto dolore dice qua però è una distocante è considerata l'amore e l'amore di tua mamma tua mamma ha morto secondo me all'inizio l'ha impensata si lei le ha scelto umano si questo è vero ma come ora vedremo qui è il punto fondamentale se ogni cosa non è fatta nella verità e secondo il giudizio di Dio è un errore l'affetto umano lo devi lasciare giudicare dal giudizio di Dio perché l'affetto umano è una cosa un'arma a doppio taglio come fai a farlo e ora lo vedremo quando lei dice si fa così contro mio fratello contro mia madre e contro tutti basta perché l'ho accettato ma come si fa chiama il suo padre è più di me non è meglio di me punto è chiaro di così baciato questo è lei infatti lei cosa dice quando comincia a considerare la cosa della madre nella slide dice il demonio mi aveva messo alla prova e lei comincia proprio perché è nella valutazione che accade il primo sbannamento è nella verità è allontanarsi dalla verità e la verità è la fedeltà alla parola di Dio sappiamo giusto non è che è la verità la verità è questo una volta in cui ero in un abisso di stupore perché vedevo che i miei tanti difetti alimentanti infedeltà non riuscivano a restringerlo lui così mi rispose voglio fare di te una fusione del mio amore e della mia riservazione in un'altra occasione mi disse ti ho scelta come sposa e quando tu hai fatto voto di castità ci siamo promessi fedeltà sono stato io a indurti a farlo prima ancora che il mondo avesse parte nel tuo cuore perché lo volevo completamente puro senza macchia di affetti terreni e per conservarmelo così ho tolto ogni malizia dalla tua volontà di modo che non potesse corromperlo ecco quindi con chiarezza adesso come stanno le cose e questo accade come vedete mentre lei è stupita di che cosa che vedeva le sue infedeltà e i suoi difetti e questo non frenavano l'amore di Dio anche qui poi se le seglie su un bambino sarà fiume l'inchiostro di lasso questo giusto? e questo è il punto la misericordia cioè non frena nulla l'amore di Dio per lei niente neanche i suoi difetti e le sue infedeltà e mentre era in questo stupore ecco qui la frase netta voglio fare di te una fusione del mio amore e della mia vita e l'altra occasione lei capisce ecco che quello che era stato il suo voto in realtà è stata una chiamata giusto? non l'ha fatto tu l'hai fatto fare io anche qui lei di per sé l'aveva fatto lei secondo la sua percezione psicologica di quando era bambina ma lentamente scopre che dietro la sua autocoscienza c'era anche una precisazione quindi Dio significa che non agisce così venendoti dall'esterno nella maggior parte dei casi agisce attraverso la tua stessa autocoscienza attraverso le tue stesse decisioni di quei momenti infatti lei l'aveva scelto lei ma ora le rivela che Dio aveva agito attraverso di lei stessa con sé cosa molto importante perché quasi sempre accade così quasi sempre accade così non accade raramente accade come uno che dall'esterno ecco come qui che dall'esterno ti parla e ti dice qualche cosa in maniera frontale quasi sempre accade che invece è in te e agisce con i tuoi strumenti e tu solitamente non lo sai ovviamente poi dopo come qui accade dopo lo capisci c'è un progetto c'è sempre il problema è se non lo seguiamo un progetto semplice e poi ti ho affidata alle cure della mia santa madre affinché ti plasmasse secondo i miei disegni lei è sempre stata per me una buona madre e non ha mai rifiutato il suo aiuto per tutte le mie bene e i miei bisogni e con tale fiducia che mi pareva di non avere nulla da temere sotto la sua materna professione io le avevo fatto volto di digiunare ogni sabato e di dire l'ufficio della sua immacolata concezione non appena avessi imparato a legge e di fare sette genuflessioni tutti i giorni della mia vita recitando sette avemarie per onorare i suoi sette dolori mi ero consacrata a lei per essere sempre sua schiava chiedendole di non rifiutarmi che così fosse le parlavo con semplicità al pari di un bambino come alla mia buona madre per la quale sin da allora provavo un amore tenissimo quindi anche questo come vedete corrisponde a una cosa che lei ha fatto spontaneamente lei si è affidata alla madonna con tutte quelle cose che dice qua queste promesse questa sorta di voto di schiava che era comune dire sono la tua serva cioè faccio tutto quello che tu mi dici mi metto al tuo servizio perché riconosco che tu mi saprai guidare una sorta di dedizione e di mettersi al servizio completamente in questo caso della madonna quella frase di Gesù le fa capire che anche questo che lei ha fatto spontaneamente come se venisse da lei in realtà era stato lui che aveva affidato alla sua madre perché ti plasmasse secondo i miei disegni quindi si svela lentamente un piano prima quello che come diceva qui che da bambina da ragazza prima che tu ti corrompessi avessi affetto per altri io ti ho fatto fidanzato dicendo tutto per me ora affidato alla vergine in realtà queste cose anche nei profeti conosciamo non mi ricordo se è il capitolo 16 in cui dice si rivolge al popolo ebraico come se fosse una giovane donna e fa lo stesso ragionamento e quindi metà metaforico il fidanzamento proprio da Gerenia proprio da Gerenia quindi è già una letteratura profetica che parla di questo rapporto sponsale e nuziale tra Dio e l'anima Dio e il popolo Dio e l'anima quindi non è anche qui di per sé una novità e qui ci sono le cure di Maria che entra da un po' di tempo da un po' di secoli con parecchi santi e sempre di più ora sarà entrerà come una che ha parte a questo sposalizio uno che vive una specie di testimone materna di questo sposalizio tra il figlio e la persona l'anima in questo caso Margherita Maria ci siamo? ecco qui il momento più chiaro lei mi rimproverò severamente quando mi vide pronta a soccombere al terribile conflitto che sentivo in me perché non potendo più resistere alle persecuzioni dei miei e alle lacrime di una madre che amavo così teneramente e che mi diceva che una figlia deve sposarsi a vent'anni cominciavo a cedere Satana mi ripeteva in continuazione vedete che lei lo attribuisce a Satana io non so se di per sé c'era Satana che glielo suggeriva ma in realtà lei lo attribuisce perché capisce che questo pensiero non le veniva se le veniva da Satana che non era un pensiero che veniva da lui povera miserabile cosa credi di fare diventando monaco farai ridere tutti perché non sarai capace di perseverare e che vergogna lasciare l'abito da monaca e il convento dove potrai andare a nasconderti mi scioglie quelle lacrime perché avevo un terribile orrore degli uomini e non sapevo che decisione prendere ma il mio divino maestro che aveva sempre presente il mio voto ebbe il fine chiedato dunque anche questo lei appunto lo attribuisce a Satana ma è lei stessa proprio che non si sente capace di reggere la scelta che farà quindi una sorta di inferiorità lei di sé ritiene di non essere all'altezza di essere fedele per la scelta che farà tentazione dunque per lei questa dopo capisce che è una tentazione e non è un ragionevole fare i conti per così dire si capisce perché come vedete tende a insinuare lei la paura dove andrai a nasconderti vergogna in lei lei paura paura e quindi alla fine vedete il Signore ha pietà di lei pietà di lei significa che finalmente le chiarisce meglio le idee e le chiede e le dà la forza di fare la scelta una volta che se non erro fu dopo la comunione lui volle farvi vedere che era il più bello il più ricco il più potente il più perfetto il più consono di tutti gli amanti e si stupiva che essendogli stata promessa da molti anni volevo rompere con lui e prendermene un'altra o sappi che se mi fai questo sgarbo ti abbandonerò per sé ma se mi resti fedele non ti abbandonerò mai e sarò l'arma vincente contro tutti i tuoi nemici scuso la tua ignoranza perché tu ancora non mi conosci ma se mi resti fedele e mi segui ti insegnerò a conoscerli e mi manifesterò come dicevo nel Vangelo non accade diversamente chiama Pietro Andrea Giovanni che non lo conoscono ma lui vuole che lo seguano subito e poi si fa conoscere e si manifesta allora esattamente come dicevo dicendo di questo infuse una grande calma dentro di me e la mia anima si trovò pervasa da una pace così grande che mi decisi a morire piuttosto che sostituire uno dei segnali importantissimi a pace la verità è questa pace solitamente quando bisogna fare delle scelte chiarissimo mi pareva allora che i miei legami si fossero spezzati che non avessi più nulla da temere pensando che seppure la vita religiosa fosse stata un purgatorio mi sarebbe stato dolce purificare così il resto della mia vita invece che vedermi precipitare verso l'inferno che tante volte avevo meritato per i miei gravi peccati e per le mie resistenze lei lo spiega così ma è qualcosa che accade dentro di lei cioè finalmente quando si fa la pace quando nel cuore torna la pace allora la persona lo vede lo capisce che fino a quando è rimasta nell'incertezza nelle resistenze non aveva pace e non c'è cosa peggiore per ognuno di noi quando non abbiamo la pace vogliamo tutti costruirlo e quando l'hai trovata subito vedi con chiarezza che sei uscita da una situazione Dio ti ha salvato da una situazione di pericolo lo vede subito ed ecco perché secondo me si giustifica questa sua decisione questa sua forza quando dice adesso ho capito che non c'era nulla da temere e i legami che avevo questo quella si erano spezzati quindi ora la madre il fratello niente tutto si è spezzato è capito chiaro tutti questi legacci lacci e le creavano dentro non c'era non pace non servita niente essendomi dunque decisa a farmi monaca quel divino sposo della mia anima per paura che gli sfuggissi ancora mi chiese di permettergli di impadronirsi e rendersi arbitro della mia libertà visto che io ero te questo è cruciale veramente è cruciale a questo punto visto che tu tentendi che sei debole ti chiedo questo punto con decisione a consentire senza difficoltà e da allora in poi si impadronì talmente della mia libertà che non ne ho più usufruito per il resto della mia vita si insiluò in quel momento così a fondo nel mio cuore che rinnovai il mio voto cominciando a capire a vedete cominciare adesso adesso se non si acconsente non si capisce prima non si capisce quindi come vedete sta è capovolto proprio perché non si controlla non è una cosa tua ti devi dare abbandonare per poi capire altrimenti non ami davvero non controllo vuoi sempre controllare le cose gli dissi che mi fosse pure costato mille vite non sarei mai stata altro che monaca e lo dichiarai a chiare lettere pregando che fossero congelati i miei partiti per quanto vantaggiosi me li presentassero cominci a fare le scelte i tagli e le decisioni mia madre vedendo ciò non piangeva più in mia presenza ma lo faceva continuamente con tutti quelli che gliene parlavano sua madre ha capito che c'era una nuova situazione si era creata una nuova situazione costoro non mancavano di venirmi a dire che se l'avessi abbandonata sarei stata la causa della sua morte e ne avrei risposto di fronte a Dio perché lei non aveva nessuno che l'ha a se stessa ragionevolissima è giusto questa cosa ma è ragione sembra ragionevole è ragionevole nel senso che accade mille volte così e lì ci vuole il grande coraggio e la grande chiarezza proprio così l'obbedienza a Dio sapendo che nell'obbedienza a Dio comunque è il bene non solo mio ma di tutti perché Dio non prende una per fare male all'altra non esiste Dio vuole il bene di tutti contemporaneamente anche se gli attori in quel momento non tutti lo capiscono e sembra che sia una cosa funesta ma torna la questione degli affetti della verità se gli affetti poi sono nella verità secondo la sua parola alla fine si raddrizzano tutti e tutti tornano nella patria dicevano pure che potevo farmi monaca dopo la sua morte pensate quante volte io ho sentito dire ma prima ti devi lavoriare non so ma prima laureate e poi ci vai in seminario prima ci vai in monastero perché i tuoi vogliono nel frattempo che ti laurei nel frattempo che finisci sta cosa nel frattempo prendere tempo compromesso così un fratello che mi amava molto fece ogni sforzo per distogliermi dal mio progetto offrendomi parte dei suoi beni affinché mi potessi collocare meglio nel mondo ma il mio cuore era diventato duro come roccia di fronte a queste cose anche se poi mi toccò restare ancora per tre anni in mezzo a tutti questi conflitti quindi vedete sono esempi chiari e precisi che appena lei si è decisa sono successe un sacco di altre cose l'impensabile mi misero presso uno degli zii che aveva una figlia monaca la quale sapendo che anche io volevo diventarlo fece di tutto per averli con lei ma io non sentivo alcuna inclinazione per le orsonie e le dicevo vedi se entro nel vostro commento sarà solo per amore tuo invece io voglio andare in un commento dove non ci siano parenti né conoscenti al fine di essere monaca per il solo amore di Dio adesso capitava spesso che c'erano parenti cugini fratelli sorelle ma poiché non sapevo quale commento sarebbe stato né quale regola avrei seguito visto che non ne conoscevo pensai di poter cedere alle sue insistenze quindi ancora una volta non sa ignoranza iniziale tanto più che amavo quella cugina che si serviva dell'autorità di mio zio cui non potevo opporre resistenza dal momento che era il mio dottore quindi ne aveva la patria potestata la legittima potestata mi diceva che mi amava come una figlia e che per questo motivo voleva tenermi vicino vicina a lui e non consentì a mio fratello di riprendermi dicendo che intendeva essere lui ad avere potestà sulla mia persona mio fratello che non aveva ancora accettato che io diventassi monaca si arrabbiò moltissimo con me pensando che fossi consenziente e che volessi gettarmi nelle braccia di Sant'Orsola nonostante lui e senza il consenso degli affari ma ne ero ben lontano più insistevano per farmi entrare in quel convento e più la cosa mi disgustava una voce segreta mi diceva non è non ti voglio là ma a Santa Maria anche questo capita spesso se ti lo dire nella vita di tanti santi o di altri beati eccetera non ti voglio qui ma ti voglio lì ti voglio qui anche il luogo è cruciale e ciò a fare non mi permettevano di visitare le monache di Santa Maria nonostante vi avessi molte parenti e me ne dicevano cose che avrebbero allontanato anche caratteri molto determinanti ma più tentavano di distogliermi e più le amavo e sentivo crescere in me il desiderio di entrare in quel convento a causa del dolce nome di Santa Maria che faceva capire che lì c'era quanto cercato una volta una volta guardando un quadro del Santissimo Francesco di Sales mi pare che mi volgesse uno sguardo paternamente amoroso chiamandomi chiamandomi figlio così cominciai a considerarlo mio padre non osavo riferire nulla di tutto ciò e non sapevo come liberarmi di mia cugina e di tutta la sua comunità che mi dimostrava un affetto tale che non sapevo come sottrarmi ecco perché perde altri altri anni prima di arrivare e ora piano piano si vede come si fa questa strada proprio quando si stava per aprire la porta del convento di andare a Sant'Orso ricevete la notizia che il mio fratello era gravemente malato e mia madre allo strato questo mi costrinse a partire subito per recarmi da lei senza che fosse possibile impedirmelo sebbene fossi malata anch'io più di rimpianto che altro vedendomi forzata a entrare in un convento dove credevo che Dio non mi chiamava viaggiai tutta la notte per dieci levi ma appena arrivata ripresi la mia dura croce su cui non induggerò avendone già parlato diffusamente questa casa basti dire che le mie sofferenze raddoppiarono d'altra parte il mio divino maestro insisteva moltissimo perché abbandonassi tutto e lo seguisse e non mi dava tregua mi infondeva un gran desiderio di conformarmi alla sua vita sofferente a tal punto che le mie attuali sofferenze mi parevano nulla cosa che mi faceva raddoppiare le penitenze qualche volta gettandomi ai piedi del crocifisso gli dicevo mio caro Salvatore come sarei felice se imprimeste in me la vostra immagine sofferenza e lui mi rispondeva è ciò che voglio purché tu non mi opponga resistenza e vi contribuisca si può capire che lei ora era decisa però e intanto non poteva quindi capisco che dice ma come faccio se tu io non te la faccio la resistenza ma tu qua non mi fai entrare quindi vedete c'è questo tempo di maturazione per la decisione piena perché lei fosse pienamente è decisa così qui abbiamo saltato un po' quel francescano andò a negoziare la mia dote presso quella cugina che non cessava di starmi dietro quindi lei aveva una dote come vedete che doveva portare con sé come si usava nei monasteri perché i monasteri poi sopravvivessero perché erano tutti di vita contemplativa non c'erano monasteri come oggi in quel periodo di vita attiva quindi non potevano avere un'attività per cui poter mangiare e guadagnare avevano solo l'attività interna ecco perché facevano al limite i torcetti i paramenti ma non bastava solitamente questo perché erano ritezza ci voleva la dote ognuna portava una dote che andava a costruire la ricchezza del mistero da cui traevano per mangiare ma mentre lui ci andava mi rivolsi alla Santissima Vergine mia buona maestra con l'intercessione di San Giacinto cui rivolsi molte preghiere e feci dire molte messe in onore della mia Santa Maria la quale mi disse amorevolmente consolante non temere nulla tu sarai la mia vera figlia e sarò sempre la tua buona maestra queste parole mi calmarono e non mi lasciarono alcun dubbio sul fatto che ogni cosa si sarebbe aggiustata nonostante tutte le opposizioni mio fratello ti ritorno dal convento mi disse vogliono quattromila lire spetta a te disporre del tuo patrimonio come più ti aggrada perché non è ancora stato fissato nulla quindi siamo ormai io gli risposi risolutamente non se ne farà mai nulla voglio andare dalle monache di Santa Maria in un convento lontano dove non ci siano parenti né conoscenti voglio essere monaca solo per amore di Dio voglio lasciare il mondo completamente e andare a nascondermi in un luogo lontano per dimenticarlo ed essere dimenticata e non vederlo mai più mi vennero proposti molti commenti tra cui scegliere ma non appena mi nominarono pare il mio cuore si riempì di gioia e vi acconsentì subito tuttavia dovetti regarmi ancora a trovare quelle monache che mi avevano ospitata quando avevo otto anni e ciò mi costò una battaglia difficile da sostenere qualche parola qui questa cosa dell'andare dove nessuno mi conosce per nascondermi per essere dimenticare ed essere dimenticata è una forma penitenziale così come accade nella storia della chiesa i padri del deserto vanno nel deserto per la stessa ragione in realtà ma a secondo delle situazioni cambia la modalità che adempia a questo luogo lontano per dimenticarlo di essere dimenticato facciamo un esempio padre del fucolo va a Nazareth travestito travestito giusto diciamo vestito da operaio per non farsi conoscere e non essere riconosciuto ed essere dimenticato è la ricerca di una posizione in cui non vali né per le tue doti né per la tua posizione sociale né per le relazioni una sorta di morte sociale nella quale tu sai di poter vivere i pellegrini del tempo medievale perché l'antico medievo perché il pellegrinaggio era una grande forma di penitenza perché esponeva a pericolo partiva per anni tornavi non tornavi ti ammazzavano riuscivi a sopravvivere ecco il primo punto poi secondo punto perché pellegrino significa in un posto tu potevi essere ricco cavaliere ma andavi senza nulla quindi all'elemosina e dovunque andavi eri un pellegrino cioè un poveraccio una specie di senza fissa dimora di oggi così si era considerato e dunque ti davano un tozzo di pane qualcosa dormivi dove capitava inverno e estate quindi il pellegrinare era una forma di assoluta morte sociale quando il pellegrinaggio diventerà moda e diventeranno moltissimi addirittura la chiesa farà la legge di evitare il vagabondaggio perché diventava un vagabondaggio anche per gente pigra gente che poi rubava i pollai i polli gli animali mentre erano i frutti faceva scorribane mentre pellegrinava per così via quindi le modalità oppure avete sentito dire in Russia qualche volta li ho citati pazzi di Dio ovvero sia uomini soprattutto uomini che se ne andavano nella foresta nella steppa russa matti apparentemente matti ma in realtà molto consapevoli facendo perdere completamente le tracce della propria identità per una sorta di totale dedizione a Cristo e diventavano poi là dove erano ci andavano andavano a mangiare ed erano consultati come dei padri e tutto e basta non di più quindi c'è sempre lo stesso la stessa idea c'è anche la clausura di per sé questa è la clausura chiudere al mondo la fuga del mondo la morte al lupo e la vita quindi anche in questo caso c'è lo stesso tipo di idea non voglio andare dai parenti ci esigni perché perché solitamente in un monastero poi dove c'erano i parenti si viveva una vita semi-mondana non claustrale in senso stretto si continuavano a seguire gli affari di famiglia si faceva salotto lo stesso perché si era parenti all'interno del monastero si creavano le fazioni esattamente ciò che viveva Teresa Davila prima della riforma Teresa a un certo punto dice basta con tutto questo modo di fare o si cambia o io me ne vado e capite i contrasti enormi che si creano nel suo monastero quando Teresa decide la padessa decide la priola decide di fare questo taglio è una rivoluzione ma lei prima di quel tempo i suoi fratelli si interessava fare sposare i fratelli i nipoti decidere le doti prendere parte dall'interno totalmente alla vita e alla famiglia nello stesso paese tutti ci andavano chiaro la situazione quando si allentano i legami i tagli non sono più tagli che si facevano invece qui il vero punto è il taglio ecco lei dice con chiarezza io voglio lasciare il mondo completamente e andare a nascondere in questo caso si parla appunto nel sogno chiamiamola morte sociale c'è una chiusura definitiva quelle monache mi accolsero dicendo che ero figlia loro ma queste sono quelle dove erano rialzati da bambino quindi altri problemi e domandandomi come mai volevo abbandonarle visto che mi amavano così teneramente mi dissero che non volevano vedermi a Santa Maria sapendo bene che lì non sarei riuscita a desistere perché Santa Maria è una visitazione da poco fondata era un monastero diciamo più rigido più osservante più osservante rispetto a loro perché no tu lì non ci starai non ci saprei gli sposi che volevo provare e mi fecero promettere che sarei ritornata da loro qualora avessi cambiato idea e Cristo diceva non ce la facciamo a me sapevano bene così dicevano che mai avrei potuto abituare e nonostante tutto quanto potevano dirmi il mio cuore restava insensibile e si confermava nella sua decisione ripetendo sempre bisogna morire o vincere quindi lei ormai è decisa definitivamente tralascio tutti gli altri conflitti che ho dovuto sostenere per mettermi a parlare del luogo della mia felicità l'amata fare le moni dove non appena entrai in parlatorio mi furono interiormente dette queste parole e qui vedi voi tipico di moltissime scelte dopo di che dissi a mio fratello che bisognava mettersi d'accordo visto che non sarei andata in un altro posto subito trattative dote e via ciò lo sorprese quando avendomi condotta da lì solo per farmi conoscere le monache di Santa Maria nel senso che e senza che io avessi precedentemente mostrato desiderio di volere diventare una di loro ma adesso non vogli venire via finché ogni cosa non fu definita definiamo altrimenti dice non torno indietro in seguito mi parve di avere preso una nuova strada tanto intensamente mi sentivo felice e in pace due grandi segni che ha trovato fino a il posto a rendermi così felice era il fatto che chi non sapeva quanto stava accadendo diceva guarda ha proprio i modi di una monaca in effetti mi vestivo con più vanità di quanto avessi mai fatto e del pari mi divertivo per la gran gioia che sentivo di appartenere tutta al mio sovrano bene il quale mentre scrivo mi rivolge spesso questo amorevole rimprovero guarda figlia mia non potrai mai trovare un padre così amoroso col suo unico figlio che si sia preso tanta cura di lui e cui abbia dato tante così tenere testimonianze d'amore come quelle che io ti ho dato e che ti darò nel mio amore che ha usato tanta pazienza e cura nel coltivarti e nell'adattarti a modo mio fin dalla più tenera età aspettandoti dolcemente senza mai rifiutarti nonostante tutte le tue resistenze ricordati che se mai tu dimenticassi la riconoscenza nei miei confronti e non mi attribuissi la gloria di ogni cosa questo sarebbe il mezzo per far inarrivire questa fonte inesauribile di ogni grande dichiarazione di cui Cristo dice proprio ti ho sempre seguito ti seguo e ricordati sempre la memoria è ciò che guida qualunque vocazione quando finalmente giunse il giorno di dire addio al mondo sentì nel mio cuore una gioia e una fermezza mai provate prima e il mio cuore era come insensibile sia all'affetto sia al dolore che mi venivano testimoniano soprattutto da mia qui si può ricordare moltissime delle testimonianze a me viene in mente al contrario quella di una madre per suo figlio Giovanna la fondatrice giusto Giovanna Francesca di Chantal quando entra è madre di figli è contrario di questo e non so se penso avrebbero raccontato il suo figlio si stende si colica davanti l'uscio della porta e dice tu non passerai sopra di me e lei ha così e va via e va via con una grande decisione e quindi in quel caso l'amore materno in fronte del proprio figlio è decisa taglia una donna veramente morirà ma per altre ragioni e povera lei che gli muore il figlio la nuora la figlia l'altro genere una strage andrà una strage no muore anche Francesca vabbè dopo no no lui nel 1622 e lei campa fino a 1648 lei rimane senza direttore senza nessuno per 25 anni completamente con la fondazione fondata da poco era stata fondata nel 1611 e lei la porterava quindi non è così 50 anni dopo fine seicento prima seicento non versai neanche una lacrima lasciandoli perché mi sembrava di essere una schiava che viene liberata dalla sua prigione e dalle sue catene per entrare nella casa del suo sposo prenderne possesso e godere in tutta libertà della sua presenza dei suoi peni e del suo amore era questo che lui diceva al mio cuore che era fuori di sé veramente nel proprio matrimonio diciamo così esce esce fuori per lei è una grande libertà è una nuova vita che si apre e dunque lascia alle spalle quello che all'altro non era per lei andiamo verso la fine perché non sapevo dare altra spiegazione alla mia vocazione per l'ordine di Santa Maria se non quello che volevo essere figlia della Santa Vecchia confesso che nel momento in cui entrai era un sabato tutti i dolori che avevo patito e molti altri mi assalirono così violentemente che mi pareva che entrando in convento il mio spirito si separasse dal mio corpo ma subito mi fu mostrato che il Signore aveva rotto il sacco della mia prigionia e che mi rivestiva del suo manto di letizia la gioia mi dominava a tal punto che gridavo è qui che io finalmente una grandissima una ventina d'anni di sofferto travaglio e per lei è una vera liberazione non me lo ricordo 22 42 muore sì no quanti anni ha adesso quando è una vita molto vivi fermo